Il ricordo del mio primo film è precisissimo, io devo dire che ho la gioia di avere quasi stampato in mente ogni istante della mia infanzia e della mia adolescenza, è un dono straordinario, una volta lessi una novella di Borges c'era un personaggio che era condannato dalla vita a ricordarsi persino la forma delle foglie e delle nuvole che gli passavano sulla testa steso in un'amaca sotto un albero in America Meridionale, io disse chissà sta più inguagliare di me, però perché mi ritrovo veramente l'animo e la testa piena di ricordi di quando ero bambino in modo straordinario, questa quindi me la ricordo in un modo precisissimo, era a Cortina dove per dei motivi di famiglia sembrava che mio fratello avesse bisogno dell'aria fine, si diceva all'epoca eccetera, invece poi era tutta una scusa per passare dei periodi belli in questo posto all'epoca in particolare molto rilassante e quindi noi passavamo l'estate e l'inverno lì e io avrò avuto quattro anni o tre anni e mezzo e fui portato a cinema e quindi lì vedi il mio primo film ed era una biancaneve ai sette mani ma non in cartone animato ma realizzato con i personaggi reali, quindi io fui portato a vedere naturalmente una favola però sullo schermo c'erano degli uomini e delle donne in carne ed ossa, cosa che già mi iniziò a sconvolgere, per cui ricordo benissimo la sensazione di assoluto proprio sconvolgimento nel senso che non sapevo che cosa stava succedendo, che cos'era quella cosa che io vedevo. A un certo punto seguendo la storia che comunque immediatamente mi aveva preso perché la conoscevo, era una delle favole che io ascoltavo, la matrigna che poi era scelta benissimo ed era una con una faccia cattivissima, ancora più cattiva di Crudelia de Mon, la carica dei 101, proprio terribile, inizia a fare tutte queste cattiverie terribili a biancaneve, la mela stregata, allora io sempre più preso dalla storia a un certo punto ero in compagnia dei miei familiari, piccolo piccolo su questa sedia, mi sono arranocchiato e quando lei ha guardato verso lo schermo, trovando tutto il mio coraggio per esprimerle quanto mi facesse schifo perché ero la cattiva della storia, le ho cacciato tanto una lingua da fuori e da sotto per esprimerle tutto il mio odio. Dopo che fatta sta botte di coraggio praticamente ho vissuto in un terrore panico fino alla fine del film, fino all'uscita, mi guardavo indietro per vedere se per un caso questa mi stesse seguendo, sono arrivato fino a casa e prima di andare a letto con ultimo filo di voce ho chiesto a mio fratello più grande che ha quattro anni e mezzo più di me, quindi avevo otto anni poi il grande della situazione, ho detto senti, devo chiedere una cosa, io ho cacciato la lingua a quella, ma quella mi ha visto e lui aveva, naturalmente come tutti i fratelli più grandi, con i più piccoli, mi ha affettosamente preso in giro dicendo, ma quella era una proiezione di immagini sullo schermo, Sergio, questo è il cinema e da allora io credo di essermi portato dentro questa incredibile sensazione di quanto una sala buia dove avviene questo miracolo della tecnica, che una proiezione di immagine può farti però immergere in un mondo fantastico dove i confini tra realtà e illusione diventano assolutamente imperscrutabili a seconda della propria capacità di abbandonarsi e sognare, sia uno strumento che non casualmente in pochi anni ha conquistato l'immaginario collettivo di tutto il pianeta in qualsiasi angolo superando la magia del teatro, della danza e diventando il grande mito di questo secolo. Il mio fare cinema, anche se è relativamente giovane come anzianità di tempo, credo, spero che riporti all'interno un'esperienza più vasta di realizzazione di un'opera che preveda l'apporto di tante persone e il mio piccolo orgoglio è quello di tentare di quindi considerare la produzione come una cosa, se posso usare una parola un po' alta, perché i veri artisti naturalmente sono gli autori, il regista e tutta quella che quando si fanno le domande al ministerio dice artistic cast e allora tu sai che devi mettere il regista, gli attori, il compositore, la musica, c'è technical cast. Io questa divisione vorrei quasi illudermi di poterla non dover più vivere, includendo anche quel povero scemo che è il produttore, ovvero sia una possibilità di concepire la realizzazione di quest'opera con un pizzico di visione artistica. Se per arte si intende una cosa che non è dettata strettamente dall'obiettivo speculativo ma da quello creativo, io sto tentando, mi sto illudendo, di fare poco ma di farlo in questo modo e con questo di tentare di pervadere il clima di lavoro di chi è accanto di questo stesso tipo di atteggiamento. Grazie.